Un cordiale buongiorno a voi in questa domenica 11 febbraio. Un Dio che annulla le distanze. È il grande tema che ci viene consegnato attraverso la liturgia di oggi. Quante volte abbiamo paura degli altri, costruiamo delle mura, degli steccati, facciamo fatica ad andare incontro al diverso, a scoprirci anche capaci di aiuto, capaci di tirar fuori i talenti che il Buon Dio ci ha consegnato. La preghiera iniziale della Messa di oggi dice proprio così, padre che nel tuo figlio crocifisso annulli ogni separazione e distanza. Sì perché egli si è identificato con il povero, con chi soffre, con il maledetto. Gesù è lì e rappresenta tutti coloro che subiscono ingiustizia e violenza. Egli davvero accorcia le distanze, ma non solo in quel momento della croce, l'ultimo atto del suo amore, del suo dono totale, ma giorno dopo giorno, come lo stesso Vangelo oggi ci ricorda. Gesù ha a che fare con un lebroso che lo supplica in ginocchio, se vuoi puoi purificarmi, attenzione non solo guarirmi, ma rimettermi nella società, nelle relazioni. Tu che sei la vita, ecco, restituiscimi alla mia piena dignità. E Gesù ci sorprende perché compie un gesto proibito, inaudito. Egli si avvicina e lo tocca, la vita tocca la morte. Egli lo tocca e dice lo voglio, sii purificato. E subito la lebra scomparve da lui e lui fu purificato. Che bella questa immagine di un Dio che accorcia le distanze. Noi che a volte associamo il male, la malattia, a qualche peccato, dimentichiamo che Dio non ci maledice. La nostra storia è già molto ingrabugliata, difficile, complicata e segnata dalla vulnerabilità, dalla malattia, dal male. E scoprire un Dio che ci raggiunge, ci fa compagnia, ci tocca e ci abbraccia è davvero motivo di gioia, di pace, di consolazione, di forza. A quell'uomo viene raccomandato di non dire nulla, ma non ce la fa, non è guarito ancora dentro, non ha capito che proprio facendo così metterà in difficoltà Gesù. Ed è interessante perché la pagina del Vangelo prosegue mostrandoci quel maestro costretto ad allontanarsi. Il Vangelo dice che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, venivano a lui da ogni parte. Dunque il guaritore, quel Gesù che è eterno e sommo sacerdote, che restituisce dignità e purezza ad ogni uomo, che fa scoprire un Dio che ci raggiunge lì senza avere paura di venire a contatto con il nostro male. Ebbene, quel Gesù è trasformato in un lebroso, è lui costretto ad allontanarsi, a stare lontano, è come se si fosse caricato del nostro male. Ecco, ci ricorda il Vangelo che fare il bene significa anche soffrire, caricarsi del male dell'altro e a volte pagare il prezzo dell'incomprensione. Non abbiamo paura dunque di avvicinarci agli altri, scoprirci capaci di guarire anche solo con una parola, un sorriso, un abbraccio e non abbiamo paura di pregare, pagare il prezzo dell'amore. Buona domenica a tutti.